Una giornata dedicata all'apprendimento dei rudimenti base della vela ma anche del SAP per coinvolgere e avviare agli sport e lacustri, giovani e non. Domenica 5 giugno presso la sede dell'Avas di Lover e l'associazione velica Alto Sebino si è svolto il Vela Day indetto dalla FIV, la Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy of Moving e le società figliate. Un'occasione gratuita per salpare e sperimentare in tutta sicurezza le discipline acquatiche. Questa giornata è organizzata la Federazione Italiana Vela in tutti i circoli d'Italia. Abbiamo fatto un'attività duplice sia sulla vela che sul SAP. Durante la giornata gli interessati possono provare sia l'esperienza in vela su imbarcazioni cabinate, sia l'esperienza sul SAP sulle nostre tavole. La nostra attività si basa principalmente sulla scuola vela. Abbiamo avuto una ripresa importante dopo gli anni del Covid, anche perché la vela, rispetto a degli studi scientifici, è uno degli sport più sicuri a livello sanitario. Tra le altre cose organizziamo un corso promozionale gratuito per bambini dai 6 ai 12 anni sugli Optimist, che il Circo Lava soffre gratuitamente, proprio per avvicinare i ragazzi a questa attività e a questo sport. È possibile iscriversi sul nostro sito www.avas.it nella sezione Scuola Vela tramite l'apposito format online. Vela dei, ma non solo al Circolo Avas, nelle prossime settimane sono previsti svariati appuntamenti che andranno ad arricchire al calendario estivo. Abbiamo in programma a breve degli appuntamenti importanti come regate. Il 18-19 giugno la regata interzonale della classe Contender, la classe 2.4. Invece a luglio, il 2-3 luglio, la cinquantesima edizione, una regata storica che organizziamo, la Lovere Taverno Lovere, a cui ci si aspetta una grandissima partecipazione per questo evento storico. Mentre il 23-24 di luglio avremo all'Avas il Match Race, che è una regata 1-1 della classe Soling a livello nazionale e avrà il campo di regata di fronte a Lovere, quindi sarà visibile anche dal lungo lago. Grazie a tutti.